Ciao a tutti, bentrovati in questo nuovo video, siamo qui per parlare di uomini e donne perché si profila veramente un addio clamorosissimo, quindi per forza di cose dobbiamo parlarne. E benvenuti anche su Pausa Caffè Live, io sono Max per chi non mi conoscesse. Per tutti gli altri beniamini di questa pagina, di questo canale, potete mettere tranquillamente un like con il solito sostegno vostro, mi raccomando. E allora, ci abbiamo questo colpo di scena che lascerà col fiato l'affezionato pubblico del dating show condotto da Maria De Filippi, ma perché? Il programma si è fermato per il ponte dell'Immacolata e riprende quindi lunedì. Il pubblico è rimasto un attimino così fermo alla sfuriata della conduttrice nei confronti di Biagio Di Maro, cioè uno dei cavalieri del parterre maschile del programma. Quindi, ragion per cui si ripartirà con la seconda parte della nuova registrazione, nella quale si andrà a parlare a lungo di Ida Platano e Alessandro Vicinanza, e dove anche si assisterà al finto svenimento di Pinuccia. Ripeto, finto svenimento. Pinuccia, dalla scorsa stagione del dating show, ha creato un rapporto di amicizia con Alessandro, con cui tuttavia vorrebbe avere una vera relazione. Da parte sua, Alessandro ha più volte ribadito di essere soltanto alla ricerca di un'amicizia, non riuscendo quindi a chiuderle totalmente la porta, ma non avendo quel qualcosa in più. Più volte si sono verificate in studio liti, tra Pinuccia e Tina Cipollari, e perché le due sono spesso in disaccordo. Anche Maria De Filippi stessa ha ripreso in qualche occasione la dama di Vigevano e tornerà a farlo nelle prossime puntate. Secondo le anticipazioni, pare che l'addio definitivo di Pinuccia alla trasmissione, cioè proprio quando non la vedremo mai più, potrebbe essere addirittura dietro l'angolo. Stando a quanto si dice, è stata assente nelle ultime registrazioni di Uomini e Donne, e si tratta di un particolare importante, poiché potrebbe essere il segnale del suo addio definitivo al programma. In teoria non dovrebbe tornare più, perché Maria si è arrabbiata con lei in una delle puntate precedenti, che tra l'altro a breve vedremo, perché lei non lascia in pace Alessandro. Insomma, o Maria De Filippi ha deciso di non far tornare in studio Pinuccia, oppure il mancato rientro può essere una scelta della dama di Vigevano. Cioè, è proprio una scelta tutta sua. Non c'è una risposta che ci dica che sia proprio così. E per sapere come si evolverà questa vicenda, basterà attendere qualche giorno per la messa in onda delle nuove puntate di Uomini e Donne. Detto questo, stando almeno alle anticipazioni che circolano nel web, Pinuccia avrà una discussione con Tina Cipollari, al termine della quale si siederà a terra. Maria De Filippi, visibilmente preoccupata, si precipiterà da lei per potersi accertare delle sue condizioni. Tuttavia, pare che la dama abbia solo finto di svenire, per fare che? Per attirare l'attenzione, no? E potrebbe essere questa la goccia che fa traboccare il vaso, ma, ripeto, è solo una supposizione da prendere assolutamente con le pinze. Ma intanto, il programma sta tornando, noi attenderemo per vedere quel che ufficialmente succederà. Nel frattempo, questo è tutto per le anticipazioni. Vi ringrazio per l'ascolto di questo video, noi ci sentiremo alla prossima, come sempre, passate una buona giornata e al prossimo video!